Se Joseph the Gamer viene eliminato, il video finisce Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore porto, come vedete a schermo Accettate Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi, quindi ci siamo, l'avete visto un po' dall'intro, dal titolo, la sfida la sapete Qui con noi abbiamo Joseph the Gamer Ciao a tutti ragazzuoli E quindi ragazzuoli, dobbiamo cercare di portare avanti il nostro Joseph fino a endgame Anche se ho l'impressione che la sfida durerà poco Ma a prescindere da questo ragazzi, lo vedete Joseph di livello 1 E infatti non gioca, credo, da quasi anni a Fortnite, almeno seriamente parlando Di conseguenza ragazzi Credo da anni come minimo, attenzione, da anni qualche minigioco ma non si può considerare No, va bene, non sono partite, non sono partite a tutti gli effetti E quindi niente ragazzi, vediamo quante ne prendiamo Ok ragazzi, quindi ci siamo buttati agli autoriti E abbiamo fatto un paio di partite di assestamento Infatti come potete vedere i nostri livelli sono cambiati Ma giusto così, perché ne abbiamo vinte troppe ragazzi Non potevo obbligare troppe vittorie di fila Ma non è vero, dovevo ricordarmi i tassi Sì esatto Ma non durò qua Quindi scendi qua dove sto io, vai vai tranquillo Vai, ti copro io fra Ok, non è andato proprio come mi aspettavo Però tranquillo Ti aiuto, ti aiuto Sì sì sì, vai 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 Tranquillo Ti vedo, ti vedo Sei sotto la mia protezione Allora Non c'ho le armi, aiuto Me ne sono accorto, me ne sono accorto Sono con te Fra, prenditi l'assalto Vai Ora prendiamo le ceste che ci sono in zona Vai Allora Qua dovrebbe esserci qualcosina Così mi proteggo pure, va Va bene, va bene Fa una cosa Lascia l'assalto che hai trovato E prenditi questo Lascia l'assalto che hai trovato Ok, un momento Ok 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 Vai Joseph Non me lo ricordo Allora Vai se inventario e poi quadrato Inventario e poi quadrato Ok Ok Oh grazie C'è gente sotto Ma non credo sia un problema per ora Io vado qui Mi prendo l'altra cesta Ma li spattiamo tutti dal prima al ultimo Ok carino questo Andiamo, andiamo Scendiamo Vai, vai Ci sono Sono con te Posto Medikit Ok Ma questi nemici per curiosità Ma dove stanno? Ma stanno giù Ma non ti preoccupare Io un po' mi preoccupo Che è stato? Non lo so Mi sembrava una flare gun Che ci ha coppito Non lo so Qua sta un fucile a pompa Granate se le vuoi Stiamo ci spacchiamo le gambine Sì No, no Non ti preoccupare Basta fare un po' di parkour Vai scendiamo Ma non ti preoccupare Vedi che sta a due sinistra Sta un fucile a pompa Sta un fucile a pompa Sotto ci stanno Sotto proprio Eh Un eliminato Era da solo probabilmente No, no, no È lì È lì Sulla sinistra Ok Facciamo una cosa Allora Con calma Visto un altro bot Questo sta venendo qua Vai Vabbè tranquillo No ha preso in realtà Un condotto Fatti una pozza grande Vai Uno dovrebbe entrare Da quella porta È entrato Arrivo Un eliminato Vi ha sparato un bot Non era vero Non era un bot Ok Un altro eliminato Era un bot Quello Le volete le camere Ok Appena possiamo Dovremmo salire Perché stare qua sotto Non è una gran idea Qua ci dovrebbe stare Un paio di test Ti copro io Va bene Va bene Ti copro io Coprimi Joseph Anche se credo Dovrebbe essere il contrario Però Anche per la cella No, no Ti copro io Fidati Oh oh Stanno Aspetta Stanno qua Vieni Vieni Ci sto Sto con te Ovviamente Vai vai Ho lanciato un paio di granate Una terra Mi sono colpito da solo Con una granata Un attimo solo Mi faccio il medikit Il tizio lo vedi Lo vedi Lo vedi Sta salendo Copri Metti un muro Metti un muro Metti un muro Ah ok Vabbè Mi piace Mi è piaciuto Mi è piaciuto Ok Meglio così Meglio così No vabbè ragazzi Allora se Tanto io bando tutti i commenti Di quelli che insultano Easy Sta arrivando qualcun altro Mi sa eh Sta arrivando qualcun altro Mi sa Spero di no Questo hai visto com'è brutto Quando ti lanciano le granate Qua dentro eh È un bijou Sì è devastante Diciamo che non te ne esci poi Allora io mo faccio una cosa Vieni seguimi Ti aspetto Joseph No Tranquillo Sono con te Non ti preoccupare Nando tu devi prendere sulla zipline Ed è subito sera Fra Che poeta C'è gente Dove Vedo 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 No quello è un bot Ah è un bot Sì credo Un viking 85 che è un bot No No Non lo so Come no Vabbè non ho ne idea Vabbè comunque sicuramente non è uno scagnozzo dell'agenzia Io uno l'avevo eliminato Però stava qua a terra se non sbaglio Sì infatti sta angolata Guardalo guardalo Poverino arenato Non sa cosa sta facendo della sua vita Ma infatti Sto cercando Meglio medikit o 10 bende No medikit A parte che lo sto portando io il medikit Vai ne ho già due E allora sta qua Viene della pia La kill mi è arrivata di quel tipo Quindi ce ne possiamo andare Vai andiamo sulla zipline Oh Copriti 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 Alla Non so dove Dall'altro lato mi sa Sì infatti Ma dall'altro lato Viene di me Sono il bot Sono il bot Vai vai Te lo puoi fare l'altro Vai vai Fattolo Fattolo Fra vai Uh Sì ma colpito Te lo puoi fare Ok Baccato che Una botta in fronte Ci sta Ci sta Vabbè tanto sta la pozza grande Fatela pure dai Io c'ho tre medikit Non so se è meglio portarmi le voze piccole Però sinceramente non credo Le voze piccole ce le ho io Dalle a me Ah ok ok a posto Vai stanno lì Tanto poi non te le saprò dare in velocità Mi sembra giusto Già sei Ok a posto a posto Vabbè È già fatto Tanto ragazzi è vinta Cioè io questa la gioco come se fosse già vinta Capito Cioè Joseph Tanto è uno scudo da guerra Che Joseph prende danni Ma è come se non li prendesse Bah non si apre Uh una cesta Aspetta un attimo Resta un attimo qua Non morire Joseph No no vado da solo Vai vai bravo bravo Questo è quello che fanno i fratelli Ti lasciano da solo Ho avuto un'idea un po' più intelligente Un attimo solo Ma che c'è l'elicottero Ho portato la stiglieria Fra ti piace questo elicottero nero Come mi piace a te Andiamo Ma mi tranci a metà con l'elicottero No ma vai tranquillo Ma qua come sei tragica Vieni Vieni che stavo Ma come come si sale Quadrato Allora sta gente è là Quindi ora busciamo contro quella gente Allora devo un attimo capire però Ah oh aspetta Vai scendi di fronte Scendi scendi Quadrato quadrato Beppe quadrato Sì 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 41 È uno scarsone Però c'è il compagno che sta sparando Non so da dove Ok sta qui Eliminato Easy Un attimo solo Vabbè quella roba non è che ti interessi Quindi non di buttare Più che altro vado io Perché sta un'arma di riserva Vai vai prendi l'elicottero Prendi l'elicottero Ma lo devo guidare io Vai vai guidalo per ora tu No no Cambia posto Cambia posto Cambia posto Cambia posto Cambia posto Vai Ok Ora dopo ci buttiamo le curabombe Dopo ci buttiamo le curabombe Non ti preoccupare vai Bastassero quelle per vingere Ma non ti preoccupare Vedi fra come se non fosse successo niente Easy Questa è una partita easy Già vinta Tanto è già vinta Perciò non hanno voglia di giocare Perché dicono Vabbè stanno Porto e Joseph the Gamer Ma che giochiamo a fare Ma che senso ha questa cosa Ma è tutto chiaro Ma tanto qua A parte che non sta manco lootato Cioè stanno proprio In tere cesto Lasciate sui tetti Cioè abbiamo giotto quello che ci interessa Va bene Va bene Fala scusa Sta gente là sotto La vedi No Va bene Sta nell'acqua Eliminato Mamma mia Ma che pro Mamma mia Fa paura Non c'è niente da fare Da dire Ragazzi Cioè La safe sta in una zona un po' particolare Ci saremmo costretti a costruire Mi sa Bravo Questa stanno nascondendo per forza Sì Sì Fra hanno paura Hanno paura Vabbè Come potrebbero non averne A dire la tutta Certo Non ci sono le mie squadre Dicino Ma quello è troppo scarso C'ho paura È meglio che andiamo via Potrebbe fare dei movimenti bruschi Inaspettati Esatto Li confondo col mio stile Da inesperto Allora Tià Mamma non ci sta nessuno Ma questi dove stanno? Non lo so Siamo in undici Eppure Cioè dovremmo essere tanti Ma vorrei stare a previsione a me Ah forse c'è gente lì È un muro da poco costruito Ok Sì Aspetta Aspetta Sono due team Sono due team credo però Allora aspetta Appena scendiamo costruisci Appena scendiamo costruisci Vai costruisci Ci sono Ci sono Eh ma c'è un po' di gente qui eh Vabbè Easy Ah sono scarsi Vai sono scarsi Sì sì Ma questo è sicuramente un altro bot Sì sì per forza C'è gente C'è gente Dove dove? Lì 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 Ok Vai pusha 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 Seguimi Seguimi L'ho colpito L'ho colpito Tanto li abbiamo fatti malissimo Io mi metto da sopra Io mi metto da sopra Tu magari spara lì dal basso Quando vuoi Una terra vai Colpito un po' 99 Fatto Dai è morto è morto Vai easy Ok vabbè questi sono proprio scarsi Vabbè Ma infatti io sto giocando Sia chiaro ragazzi Pure io sto giocando male Perché ormai abbiamo capito Il livello della lobby Non dovrebbe essere un gran problemone E niente Vediamo invece qualcun altro Non lo so In questa zona io non vedo più nessuno Non lo so L'elicottero come sta messo? Abbiamo attirato l'attenzione L'elicottero sta messo benone Guarda se vogliamo Riprenderlo Eh si vai Eccomi qua Ok vai Allora vediamo un po' Ah stanno lì Stanno lì Un po' complicatucci Di eliminare questi Ah mi è arrivata una brutta cosa Eh si Scendiamo scendiamo Vai scendiamo Allontanati dall'elicottero Appena voi Perché questo a breve esplode Sì Sono botto comunque credo eh Vai una terra Una terra Ma no Ma vai easy Fra Fortumov Sai che fai? Ma mi butto giù Non la voglio vincere No ma non farlo Ma stai calmo Ma mi butto giù No Mi butto No Ma mi butto Fortunato Ma sei troppo in basso Io con i bot non la voglio vincere Ma come non la vuoi vincere? Non la voglio vincere con i bot No Devo vincere la prima che mi scenda No 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 Grazie a tutti.